La FIOM CGL di Firenze, tramite i suoi legali, ha presentato ricorso al Tribunale di Firenze contro Becquert Figline S.p.A. per comportamento antisindacale, anche perché, spiega Daniele Calosi, segretario generale di FIOM Firenze, a distanza di un mese l'azienda non ha risposto alla nostra richiesta di visitare lo stabilimento per verificare le condizioni del sito produttivo e per controllare quali macchinari siano ancora presenti, come previsto nell'accordo sottoscritto in ottobre al Ministero. Dalla presenza di queste macchine passa infatti la possibilità concreta che lo stabilimento possa essere reindustrializzato, aggiunge Calosi, ricordando che dalla vettenza Becquert, grazie alla determinazione dei lavoratori e del sindacato, è nata la reintroduzione della cassa integrazione per cessazione di attività, strumento che potrà essere utilizzato da tutti coloro che ne avranno bisogno. Noi ne abbiamo proposto la reintroduzione, il Ministero l'ha resa possibile e continua, ma ora la negligenza dell'azienda ne impedisce la riscossione, ritardando la compilazione della modulistica e la loro trasmissione utile per permettere all'Inps il pagamento diretto ai dipendenti. I lavoratori necessitano di risposte e noi con loro. Non accettiamo, dice sempre Calosi, che l'operato del sindacato, dei lavoratori e dell'intero territorio venga sminuito dall'ennesimo atteggiamento di supponenza di un'azienda che, vorremmo ricordare, ha trasferito le produzioni in Romania non per mancanza di lavoro, ma per mera logica di profitto. Abbiamo fiducia nella giustizia e a questa ci appelliamo insieme ai lavoratori affinché riscuotano subito quanto loro dovuto e il percorso verso la reindustrializzazione avvenga nel rispetto delle persone e degli accordi.